Saul Bass è stato un grandissimo grafico, autore di manifesti cinematografici, autore di titoli di testa di film come quello che sta scorrendo alle mie spalle da Walk on the Wilds di Edward Mitrich in italiano Anime Spork. È stato anche regista di un film, Fase Quarta Distruzione Terra, di cui qui alla mostra c'è un manifesto. Era un film abbastanza curioso sulla conquista della terra da parte delle formiche, ma non i classici formiconi giganti del cinema di fantascienza. Formiche di taglia regolare, ma dotate di una inquietante intelligenza collettiva. Era un film visionario e molto molto insolito. Saul Bass è stato, si dice, anche l'autore del découpage, cioè dello storyboard, sulla base di cui Alfred Hitchcock ha girato la famosa sequenza della doccia di Vistaico. E qui abbiamo lo storyboard dei titoli di testa del film di Mitrich, con un gatto. Vedete che le inquadrature sono estremamente graficizzate, questo gatto nero che attraversa varie scenografie, e segue in maniera molto precisa questo storyboard disegnato, che è veramente un pezzo tra quelli che in questa mostra, se mi lasciassero solo, io volentieri mi gratterei, mi porterei a casa. È una mostra piena di cimeli e che ci fa vedere la genialità di alcuni artisti, anche quando si applicano al mondo del cinema e degli animali. Grazie.